La marcia della comunità di Sant'Egidio è un capotanno diverso che fa riflettere, insomma qualcosa di alternativo rispetto al rumore. Sì, anche quest'anno, in occasione della 47esima giornata mondiale per la pace, la comunità di Sant'Egidio promuove una marcia per la pace, una preghiera per la pace a Messina. Ormai è diventato un appuntamento consueto per la nostra città e quest'anno il Santo Padre invita a riflettere in particolare sul tema della fraternità. Come via per arrivare alla pace. Il Papa ci ha tante volte parlato di quella globalizzazione dell'indifferenza che fa vedere gli altri non come fratelli, ma anzi fa rendere ognuno di noi insensibili al dolore degli altri. Allora questa marcia vuole essere il modo in cui noi, tutti, insieme alla nostra città, vogliamo manifestare invece la nostra vicinanza ancora a quei popoli che ancora soffrono per la guerra e quindi la nostra volontà di pace. L'appuntamento sarà alla 18.30 a Piazza Cairoli e si proseguirà in corteo fino alla chiesa di San Nicolò dove si terminerà con una preghiera per la pace in tutte le terre.